Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi andiamo a parlare di un nuovo drone di casa UNEC. Dopo il flop allucinante dello UNEC Mantis Q, UNEC ci riprova sempre con un drone richiudibile, ma stavolta con delle caratteristiche un pochino più serie, perché dopo il flop del Mantis Q di cui avevo fatto anche la recensione, la prova, magari ve la lascio qua sopra nelle schede, dove era un drone che a 500 e forse 590 euro o 500 euro adesso non ricordo di preciso, comunque era sopra i 500 euro, non si può vendere un drone senza un gimbal stabilizzato meccanicamente, ma vendere un drone con una stabilizzazione elettronica in più anche abbastanza scarsa a 500 euro, veramente incredibile. Per il resto il drone era un drone normalissimo, nel senso sì richiudibile, ma non aveva delle caratteristiche per cui dire cacchio 500 euro una gimbal però fa, però fa, però fa, no, non faceva praticamente niente. Era un drone che sarebbe dovuto costare non più di 200 euro, anzi col senno di poi vedendo cosa adesso costa un absanzino o addirittura un phimix 8 sarebbe un drone da 150 euro, non di più, perché veramente senza avere una stabilizzazione meccanica era un drone impensabile. E poi comunque con molte altre pecche, anche il segnale di ritorno video era abbastanza scarso, nel senso che un range è scarso, un drone secondo me con qualcosa di buono, tipo le batterie che duravano 30 minuti, anche l'overing secondo me non era male, però troppo per costare 500 euro. Adesso Iunec ci riprova, ci riprova con il Mantis G, un drone che sulla carta non ha niente di innovativo e secondo me parte già con un handicap, il prezzo perché 699 euro ragazzi troppo troppo troppo, cioè a 700 euro prendo un Mavic Air, è vero non ha la batteria di 30 minuti ma che drone pazzesco è il Mavic Air? Super affidabile, super performante, prodotto DJI o a mio parere mi prendo tranquillamente, che io considero un drone super per la mia opinione, anzi lo preferisco al Mavic Air, mi prendo un paro Tanafi, dove lo si trova spesso a 549 euro su Amazon, da MediaWorld, quindi a 150 euro in meno di questo Mantis Q, ma ragazzi che drone è? Un drone con caratteristiche uniche, un drone che ha raggiunto la sua massima affidabilità nell'evoluzione dei firmware, dell'applicazione, adesso con l'ultimo arrivo dei firmware nella nuova applicazione addirittura si può usare anche un visore VR, cioè adesso ha raggiunto la sua massima maturità come l'ha raggiunta il Mavic Air, droni super affidabili con prestazioni super esagerate. Qua partiamo con un drone nuovo dal punto di vista del modello, con caratteristiche Nii perché alla fine cosa abbiamo? 505 grammi di peso quindi più o meno come un Mavic Air, poi abbiamo 33 minuti di volo che secondo me è l'unica cosa positiva che ha, non positiva, l'unica cosa positiva in questa fascia di prezzo perché ricordiamoci ragazzi che a 699 euro ci prendiamo due Fimix 8 o tre apps Anzino, cioè droni che comunque hanno dei difettini, che stanno risolvendo le aziende, che li producono, però il drone già con comunque un po' di mesi sulle spalle. Questo parte a 700 euro con un drone nuovo quindi avrà i suoi problemi iniziali di gioventù ma quello ci sta quindi vi dicevo 33 minuti di autonomia delle batterie che sono l'unica cosa positiva per un drone comunque di queste dimensioni e peso perché comunque è più facile avere delle prestazioni e livello di batteria su droni grandi perché comunque si montano batterie molto più grosse. Qua comunque su un drone da 505 grammi vediamo il Mavic Air che arriva se no a 17-18 minuti allo stesso peso, qua arriviamo a 33 minuti, però è anche vero che qua non abbiamo sensori di collisione, vi diceva tutta roba che porta via corrente. Allora vi stavo dicendo le batterie le abbiamo viste, poi il sistema GPS GLONASS praticamente come tutti i droni adesso del giorno d'oggi in poche parole di questa fascia di prezzo, poi abbiamo la possibilità di scattare foto sia in jpeg che in dng quindi la possibilità di avere anche delle foto per farci della post produzione però tutte cose niente di che cioè cose che ormai hanno tutti 4k a 30 fps per i video quindi praticamente tutti i droni adesso con un gimbal meccanico fanno questo, 13 megapixel di camera quindi vabbè nella norma, poi abbiamo ecco qua stabilizzazione di Mavic Gimbal stabilizer, cacchio vuol dire Gimbal stabilizer su tre assi, su due assi, su un asse, ok ha un gimbal stabilizzato meccanicamente su quanti assi? 3, 2, 1 perché su 3 è buono, su 2 rimane buono perché se andiamo a vedere il paro Tanafi è stabilizzato su due assi meccanicamente uno elettronicamente e la stabilizzazione è più che ottima ma anche se andiamo a prendere lo spark cioè se la parte elettronica del terzo asse è fatta bene non si sente questa grande mancanza del terzo asse meccanico ma se inizia a averne uno solo allora inizia a sentirsi tanto e qua non è specificato vabbè ed è una cosa che non capisco perché nei dati tecnici non ci sia questa descrizione nel senso che probabilmente sarà su due assi, a questo punto vado a pensare per non avere diciamo esaltato la cosa dei tre assi probabilmente sarà su due assi suppongo se no la esalti la cosa dei tre assi no? e invece qua non è stato fatto, poi vediamo la memoria interna da 16 giga quindi ha già una memoria interna sua più è espandibile ovviamente fino a 128 giga con una sdcar e poi tutti i vari voli automatici e we point tutte cose che comunque hanno anche gli altri droni quindi niente di che poi vabbè esteticamente rimane più o meno simile al mantis q molto simile un'altra cosa che non mi piace che è un po la stessa cosa che ha l'apsanzino però l'apsanzino ce l'ha a quel prezzo cioè adesso l'apsanzino costa 260 euro ma anche al suo prezzo quando è uscito che costava 370 euro questo ne costa 700 e manco ci hanno fatto uno sportellino qua da parte per chiudere al pc cioè quindi la presa usb e la micro sd è lì scoperta uno sportellino di gomma per la polvere no a 700 euro non ci stavate dentro? Boh ce lo posso capire non lo capisco lo stesso anche sull'apsanzino perché comunque veramente sportellino di gomma credo che costi 0,000 centesimi però su un coso da 700 euro quando devi competere con un mavic air che ha una qualità di costruzione più che ottima vabbè poi andiamo avanti ecco qua una cosa che è migliorata rispetto al mantis q sembrerebbe la tecnologia smart streaming integrata la nuova trasmissione migliorata e rindondante dei segnali da 2,4 a 5 gigahertz è vero perché comunque il mantis q nei suoi limiti di stabilizzazione video scarsissima aveva anche comunque dei limiti di segnali di ritorno video però trasmetteva a 5 gigahertz e basta qua invece abbiamo sia 2,4 che a 5 un po come il mavic air o come il paro tanafi quindi una caratteristica secondo me interessante perché in base alla situazione si va a modificare il segnale video di ritorno che vogliamo avere quindi è una cosa che non tutti i droni hanno tipo se vogliamo l'apsanzino non ce l'ha ma 5,8 punto o tipo il film x8 5,8 punto fine qua invece abbiamo la scelta delle due possibilità sembrerebbe quindi portandola a due chilometri il range però non è specificato sia in fcc in ce anche qua non c'è scritto niente c'è scritto due chilometri punto vabbè poi vabbè controllo vocale ampliato perché anche anche il mantis q aveva un controllo vocale quindi qua in teoria ce l'ha migliorato però sì è una funzione che realmente non comprendo nel senso va bene forse per un giocattolo di un bambino se la metti su un bambino forse si diverte ma un droni da 700 euro in mano al bambino non glielo dai di sicuro e secondo me controllo vocale rimane lì dove secondo me vedete ragazzi hanno molto esaltato il controllo vocale ampliato e poi non mi dici che gimbal ha però secondo me era più importante il gimbal del controllo vocale cioè dire ha una stabilizzazione su un asse o su tre assi o su due assi no guardano il controllo vocale questo vabbè cioè penso che uno che acquista non era 700 euro il suo ultimo pensiero se controllo vocale già il controllo con le gesture è usato secondo me pochissimo nel senso che quando lo acquisti si lo provi perché dici wow che figata lo guido con la mano ma poi in realtà quando poi vai a volare veramente a farci video seri non è che usi la mano quindi anche quello è più una cosa di dire siamo arrivati a pilotare il drone con una mano e qua siamo arrivati a pilotare il drone con la voce però poi sono tutte cose un po fine a se stesse qua le varie funzioni vedete WePoint, Visual Tracking, Funzione Cinema, Journey Mode, Point of Earth, Return to Home cioè tutte cose che comunque hanno tutti gli altri droni anche i più economici con caratteristiche diciamo importanti sotto si vede che ha due sensori quindi questo vabbè l'aveva anche il Mantis Q, due sensori sotto per la stabilizzazione che è la cosa che manca di più all'app San Zino ovviamente qua ce l'hanno però 700 euro vedete che non ce li mettevano poi qua meno male che lo dicono un drone per selfie di lusso e certo a 700 euro voglio anche vedere che non è di lusso è di super lusso questo drone per farsi selfie il radiocomando è molto simile al Mantis Q praticamente uguale però in teoria dovrebbe essere cambiata la come vi dicevo prima il ritorno video e il telecomando mi era anche piaciuto come impugnatura come movimento dei joystick come era fatto cioè secondo me il radiocomando non era niente male piccolo poco ingombrante quindi facile da portarselo in giro quello mi era piaciuto mi ricordo che mi era piaciuto il drone non neanche un po' poi velocità di 72 chilometri all'ora tanta roba se sono veri direi che è una velocità di super lusso questa velocità la raggiunge il mio hotel Ivo quindi 72 chilometri all'ora su un drone che pesa 500 grammi realmente ragazzi tanta roba anche se poi anche questo ripeto magari un po' fine a se stesso perché magari diventa relativo però forse più interessante 72 chilometri all'ora del controllo vocale ragazzi quindi ragazzi queste sono le caratteristiche di questo Mantis G uscirà a metà ottobre è già disponibile la prenotazione su Amazon probabilmente anzi quasi sicuramente lo proverò perché ho provato il Q che è stato un incubo cioè veramente quando penso che quel drone veniva venduto a 500 euro ragazzi anche no però ripeto qua anche questo ragazzi 700 euro entra in una fascia di droni di alto livello e comunque abbiamo un prodotto non eccesso quindi boh entrare in una fascia di mercato dove hai paro Tanafi comunque prodotto di qualità con una ditta francese che comunque ci lavora tantissimo con firmo l'applicazione continua a svilupparlo e abbiamo dall'altra parte abbiamo il Mavic Air prodotto super trafidabile prestazioni con dei limiti se vogliamo il limite più grosso la batteria però per il resto tanta roba ragazzi cioè un drone incredibile con dei limiti in modalità CE perché il segnale ma stessa cosa anche per paro Tanafi probabilmente anche qua in modalità CE hanno dei limiti per il ritorno video però portati in FCC i droni pazzeschi entrare a 700 euro in quella fascia di mercato per me UNEC non ci siamo anche perché se lo guardiamo bene non ha neanche sensori anticollisione che poi servano meno nel senso uno può dire a me non interessano io non ne ho bisogno per amore di dio io ripeto preferisco il paro Tanafi che non li ha il Mavic Air come drone e non li ha però lo capisco che non li ha pesa 300 grammi non potrà mai avere magari sensori anticollisione un drone da 300 grammi con una batteria che dura 25 minuti cioè lo posso capire che non li abbia però qua parliamo di un drone da 500 grammi quindi molto simile al Mavic Air 700 euro di drone e non ha neanche un sensore anticollisione cioè tutto questo cioè cosa ha di nuovo questo drone? niente cioè un'evoluzione di un drone sbagliatissimo praticamente sarebbe dovuto uscire questo drone sarebbe dovuto uscire al posto del Mantis Q al posto del Mantis Q circa un anno fa anzi forse meno di un anno fa sarebbe dovuto uscire questo drone drone allora aveva senso ma uscire adesso quando sono usciti Apsanzino, FIM X8, droni con caratteristiche importanti o caratteristiche praticamente uguali a queste perché diciamo prendiamo il FIM X8 ok un po' più grande di questo però le caratteristiche sono queste costa la metà ed ha già comunque un po' di sviluppo a livello firmware ma anche un po' di errori di FIMI nello sviluppo dei firmware ma come Apsanzino, vabbè quello nato discorso questi cinesi che ne combinano peggio di Bertoldo dal punto di vista degli aggiornamenti firmware però cacchio ragazzi 700 euro secondo me o abbassano il prezzo di botto o questi non ne vendono neanche mezzo perché veramente la scelta qua diventa importante su qualsiasi altro drone più economico o se lo vuoi di marca lo faccio così quindi dov'è il vantaggio di Yunex? quindi ragazzi in questo video in cui vi ho portato le mie prime impressioni sull'esperienza ovviamente del Mantis Q di questo nuovissimo Mantis G in arrivo, nuovissimo, di questo nuovo Mantis G in arrivo a metà ottobre vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi ci troviamo su questo canale YouTube per non perdermi neanche un video, una recensione, un test, ciao!